Ciao internet, buon martedì! Oggi parliamo di orge. No, non sto scherzando, nella realtà parliamo proprio di orge, o in particolare di una orgia. L'orgia del volo Eastern Airlines 6P. Se cercate su Google Eastern Airlines orge, o orgia, trovate un filmato, un filmato che gira su vari giornali. Il problema è che lo trovate per la motivazione sbagliata. Infatti, non lo trovate perché è un'orgia, anche se quelle sono le cose interessanti, i maschietti, noi maschietti siamo prevedibili, ci parli di orge o di guida galattica per autostoppisti, hai tutta la nostra attenzione. Come? Voi non l'avete con guida galattica per autostoppisti? Che persone orribili che siete! Ma detto questo, è un'orgia particolare, è un'orgia su un volo cinese, o meglio, ha proprio finito l'imbarco di un volo cinese, con del personale di bordo di un aereo cinese, presumibilmente in Spagna, dove in un karaoke ballano, cantano, nudi come mamma li ha fatti, e fanno altre cose. I video hanno girato tanto in internet. Ma non sono diventati virali questi video a causa del video di per sé, quanto a causa della risposta ai video della compagnia stessa. Già, la compagnia ha negato l'evidenza, ha negato tutto, ha negato che quelle persone esistessero, ha negato addirittura che fosse un loro volo, ha negato addirittura che si trovassero a un certo punto in Spagna, dicendo che il video era stato girato in Africa. Tutto questo clamore ha suscitato quello che normalmente viene chiamato Streisand Effect. Ve lo ricordate? Ne abbiamo parlato. Da Barbara Streisand, il tentativo di oscurare delle informazioni con una manovra mediatica per oscurarle, ottiene l'effetto opposto, il ribaltamento di tutto questo, e questo ribaltamento che porta, ovviamente, ancora più alla diffusione della notizia. Ci si è messo anche, direttamente, l'intera macchina del governo cinese a cercare di censurare, tant'è che, su Sina Weibo, il social network principale in Cina, il termine Eastern Airlines 6P e Eastern Airlines Orgy, con tutte le varie definizioni, è ufficialmente censurato da qualche giorno. Ovviamente, la censura non ha fatto nient'altro, non tanto di diminuire le ricerche in giro per il mondo, quanto di creare una notizia legata proprio al fatto che quel termine era stato censurato e quindi un interesse verso il filmato iniziale. La cosa buffa è che in tanti concetti che hanno a che fare con la reputazione spesso bisogna stare estremamente attenti. La prima delle risposte, quella di negare l'evidenza, quello di buttare fuori i comunicati ad ogni costo, quello di cercare di silenziare in maniera forte e importante la diffusione di un determinato fenomeno, rischia, se fatto male, semplicemente di ottenere il risultato opposto. Vedi, è che spesso non si tratta del contenuto in sé, ma dell'attenzione che io genero nel contenuto, per farlo viralizzare, e quindi, ad esempio, questa orgia non aveva, per me, alcun interesse. Questa, ad esempio. Lascia perdere. Ma il mio interesse non è stato gestito e suscitato dal fatto che ci fosse un orgio, che qualcuno l'avesse condivisa. È stata gestita, è stata incrementata da due diverse notizie. Da un lato, il pessimo processo di gestione della reputazione della compagnia aerea, che mente cercando di nascondere l'evidenza, e quindi la curiosità di vedere cosa stai cercando di nascondere. Dall'altra parte, le parole chiave censurate su Sina Weibo, e allora andare a vedere perché quelle parole chiave sono state censurate. Ambe due sono, nelle ipotesi di chi le ha fatte, delle contromisure efficaci per bloccare la diffusione del filmato iniziale. Ma, nella pratica, non sono diventate nient'altro che il il trampolino, lo stimolo, per fare in modo che altre persone andassero a cercare quel contenuto. Di fatto, sono una strategia reputazionale che ha fatto molto più danno rispetto a quelli che sono i successi. E succede spessissimo così, lo abbiamo visto anche in Italia, lo vedo tutti i giorni nel mio lavoro, una strategia reputazionale di contenimento di una informazione fatta male, rischia di fare molti più danni, molto più effetto onda, che non il contenuto iniziale che magari può passare sotto sordina. E non avete idea di quanti persone, quante realtà, quanti professionisti che si improvvisano a dare risposte non strategiche, stanno facendo, a varie aziende, molto più male che bene. E voi? Avete qualche fail spettacolare e reputazionale nel cover-up, nel tentativo di nascondere, di insabbiare una notizia? Me lo raccontate qui sotto, sono davvero curioso. E se non vi siete ancora iscritti, questo è il momento giusto per iscriversi o all'account YouTube o alla pagina Facebook. Nella pagina Facebook vi racconto anche, ad esempio, dove mi trovate in giro per l'Italia, visto che nei prossimi mesi farò praticamente tournée. Oggi, ad esempio, sono a Bari a parlare da Digital Magics. E per oggi è tutto. Io sono Matteo Flora, vi faccio compagnia cinque giorni alla settimana raccontandovi di come la rete ci cambia, e come sempre, grazie mille per avermi ascoltato e... e sto preparati! Grazie a tutti!